Ecco, una cosa importante da considerare adesso è questa, ovvero che la rivoluzione comunista era stata... cioè, la necessità della rivoluzione comunista, del fatto che il capitalismo sarebbe stato soppiantato dal comunismo, come sapete è una dottrina... vabbè, è la dottrina marxista sostanzialmente. Però la Russia non era un paese estremamente industrializzato nel 17, perciò di fatto la rivoluzione in Russia avrebbe portato a una rivoluzione borghese, cioè come quella che c'era stata nel 1789 in Francia, proprio perché la Russia non era così fortemente industrializzata. L'80% dei cittadini russi, vabbè, dei russi, era infatti contadina, quindi in realtà la rivoluzione in Russia avrebbe portato non i comunisti al potere, perché gli operai, i proletari non erano così tanti e neanche così importanti. Il fatto principale però è che nemmeno, nemmeno i borghesi avevano una grande importanza nella vita sociale dell'impero zarista, e tra l'altro non avevano nessuna legittimazione sul popolo per governare, di fatto non riuscivano a imporsi, erano una minoranza nella società della Russia zarista. E perciò si costituì questo governo democratico non borghese e composto solo in minima parte, circa il 2,5% da persone di astrazione borghese. Ecco, perciò a questo punto si hanno i mesi del governo liberale, dal marzo all'ottobre, dal ottobre per il calendario russo, al 7 novembre per il calendario gregoriano, questi mesi in cui c'è il governo democratico.